Siamo nell'anno 1253. Un frate parte alla volta dell'Oriente. È passato pochissimo tempo da quando il terrore di un'invasione mongola ha sconvolto l'Europa. Gli invasori sono ormai giunti invincibili in Polonia, in Bohemia, in Ungheria, sono arrivati alle coste dell'Adriatico e hanno seminato distruzione e fatto prigionieri cristiani di mezzo continente. Poi sono svaniti. È necessario conoscerli meglio, capire quali siano le loro intenzioni, è necessario stabilire relazioni diplomatiche e commerciali, è necessario tentare di convertirli o almeno convincerli ad una posizione di neutralità. Ed è qui che entra in gioco il nostro frate, che si mette in viaggio nella primavera dell'anno 1253 appoggiato dal sovrano Luigi IX. Il frate si chiamava Guglielmo di Rubruck. Parte con l'intenzione di fare opera di evangelizzazione e con la missione di informare il sovrano di tutto ciò che avrebbe visto durante la sua spedizione. Per due anni il nostro frate percorre i territori dell'Asia centrale, attraversa la regione del Volga fino a raggiungere di accampamento in accampamento e di bivacco in bivacco Karakorum, la capitale del Gran Khan Mangu. È il gennaio 1254 quando la spedizione arriva al campo del Cannes, ottenendo l'autorizzazione a fermarvisi fino alla fine di quel duro inverno. Da mangiare davano a noi che eravamo in tre la carne di un montone piccolo e piccolo e magro, ogni giorno una scodella colma di miglio e un giorno su quattro della birra di riso. Ma tanti sono gli affamati ai quali non è dato nulla per nutrirsi. È a questo punto che il frate, di fronte a quei mongoli prostrati dalla fame eppure capaci di far dono ai loro ospiti di quel poco che avevano da mangiare, fa una riflessione. Lì ho sperimentato, quanto sia penoso, quanto sia intollerabile, essere generosi nella povertà. Senza indulgere nell'apprezzamento da parte del francescano di questo gesto di generosità, di questo gesto di spossessamento volontario, che ha il merito di condurre il frate ad una nuova esperienza della povertà. In qualche modo ha il suo significato più doloroso ed estremo. L'episodio, che ci viene dal dettagliato racconto che Guglielmo di Rubruck stese al suo ritorno per Luigi IX, pubblicato con il titolo di Viaggio in Mongolia, è utile per raccontare il modo in cui un europeo sperimentava, leggeva e traduceva l'osservazione di una società diversa. Una società che ci appare tutta tesa tra i due poli opposti ed estremi di ricchezza, le corti del Cannes e povertà, termini tradotti sostanzialmente come abbondanza e penuria di cibo, disponibilità e indisponibilità di bene. Guglielmo era originario delle Fiandre francesi, una regione che in questi anni stava cavalcando l'onda di uno sviluppo precoce ed eccezionale nel momento stesso in cui l'Occidente toccava forse lo zenith del suo apogeo. Dunque, da quel mondo Guglielmo è catapultato in un mondo altro. In nessun luogo hanno una città stabile, tutto ciò che vedevamo era cielo e terra e non trovavamo nulla che si potesse comprare col denaro e con la carne di un solo montone danno da mangiare a 50 o 100 uomini.